Una mostra per presentare i nuovi percorsi di cura e reinserimento degli internati. In sala URP del Consiglio regionale del Piemonte è stato inaugurato l'allestimento curato dall'Associazione Dottor Luigi Fiori Fatte Bene Fratelli per le Nuove Povertà Onlus che presenta i primi significativi risultati e le attività pionieristiche portate avanti dalle due residenze attive in Piemonte attraverso l'esposizione di piccoli manufatti, quadri, disegni, fotografie e materiali prodotti nei laboratori artistici e ricreativi dai pazienti internati nelle strutture sanitarie individuate dalla regione Piemonte. La presentazione della mostra si è aperta con il saluto del vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni. Nessuno deve essere escluso, tutti devono avere la possibilità di poter reinserirsi, di poter esprimersi e credo che il modo migliore per farlo sia proprio esporre in questa mostra i disegni, le opere fatte da chi è in difficoltà. Sono intervenuti la Presidente dell'Associazione che ha curato l'esposizione, Vanda Braida, la responsabile e l'educatore della Residenza San Michele di Bra, Grazie Ala e Andrea Zacchello, il responsabile della Residenza Anton Martin di San Maurizio Canavese, Alessandro Iaretti Sodano e il garante regionale delle persone detenute, Bruno Mellano. L'aspetto importante è che possiamo favorire come associazione queste attività che altrimenti la REMS non potrebbe fare. La maggior parte di questi ospiti della REMS arrivano che non hanno risorse economiche, molto spesso neanche vestiti e quindi l'idea di intrattenerli in queste attività permette loro di recuperare la dignità come persone. Oggi poter rappresentare con i pazienti qui con noi i lavori fatti credo che sia una tappa molto significativa di un'apertura al territorio che è l'unica chance che abbiamo per un'efficacia di intervento e per una dignità della persona coinvolta. Aperta fino al 4 dicembre, la mostra è visitabile dalla lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. Grazie.